musica 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 Allora, tutti i miei giochi stanno in quel cassetto, e vi farò vedere quelli carinissimi! Prima il camioncino della posta, e la retrocarica super veloce, poi c'è l'ambulanza, va andare avanti, macchina normale, avanti, e carico! La mia preferita è questa, quella da corsa, questa qua! Mamma mia Carmine che signorotto, va in piscina, io vorrei un'inquadratura della famiglia al completo, e allora giriamo la telecamera! Tutti in accappatoio per scendere finalmente nelle piscine termali, 3, 2, 1, film! Ragazzi siamo arrivati qui, oggi faremo tutte le piscine, è freddissimo in questa! Ma questo è il bello, fa freddo, però noi adesso... Ci andremo a immergere nell'acqua a casa! Vanno dai, 33-39 gradi! È bellissimo ragazzi, l'atmosfera è questa, ma che è meravigliosa! Facciamo vedere! Questa è una piscina interna, esterna comunicante, famiglia in valigia! Hai pensato di metterlo qui dentro? Uuuuh, è proprio giù! E adesso, inizia il relax! Com'è Elie? Calda! In silenzio! In silenzio! In silenzio! In silenzio! In silenzio! In silenzio! No ma che era... La acqua è caldita! Ohhhh! Mi voglio dire una cosa! Giri, dà il soffro, c'è tipo la sostanza che si prende! Perché non ci stanno le onde? Sono andate su, nelle formato tipo della sabbia, si esuppertisce! Che bella sensazione Volete vedere come riesco a galleggiare? L'avete visto? L'avete visto? Allora Fare un esperimento super bello Fuori l'acqua fa fredda e dentro fa caldissimo Vogliamo provare con il giocattolo di Carmine Che cambia colore nell'acqua calda Quanto tempo ci mette per diventare Completamente viola Adesso è rosa così 30 second later Ma guardate qua 5 secondi e già le zampe sono viola Anche il muso Anche delle macchie Sta diventando viola Aspettiamo solo un altro poco perché è un poco rosa qui Dopo faremo anche un messo Faremo vedere come diventa rosa in un lampo Eccolo qua Volete vedere? Guardate meglio qua E i vostri fib Da qui le terme sono giocati in apolano Viviamo appuntamento ai piedi della torre di Pisa Eccolo qua Carmine Dov'è Carmine? No è rimasto a Rapolano Terme Fate venire la torre Io la vado a prendere Eccoci Però dobbiamo immediatamente fare il nostro 3, 2, 1 Fiii Perché si possono fare belle foto dove tieni la torre Dove vai? Fai che la mantieni Oh non c'è rio Falla con le male Aspetta mi sposto io Non ti muoverai Aspetta Che stupenda ce l'ho Quante milioni di foto hai fatto finora? Poche Quindi Le dobbiamo fare ancora Forza In questo momento geografia La torre di Pisa è stata costruita Sarà una torre normale Poi con un cedimento del terreno Si è inclinata Allora Il resto dei piani Sono stati costruiti Un po' inclinati dalla parte opposta Per sperare che si rimettesse dritta Ma è rimasta così Ed è bellissima Vi dico io dove siamo Siamo proprio in questa zona Siamo andati proprio sotto la torre E si vedeva che era proprio sprofondata Da un lato Era normale Dall'altro era tutto asceso Così Guardate da qui quanto è scesa Andiamo con la questa inclinazione della torre Si? Così? Ma non ti vede La torre però prende da là Di là? Ma che dio è sceso? E poi faccio così Che ti sposti con il cedimento Ma è normale Perché l'acqua pende verso avanti Papà che muovi il team Appende verso avanti E con la stessa inclinazione della torre di Pisa Facciamo un 3 Vai cambine 1 E adesso caro team bag Prima di andarsene Andiamo a prendere qualche ricordino Perché il ricordino è un'altra cosa Il souvenir Il souvenir Guarda il cinema No Bellissimo Ma non è troppo Ma è troppo grande Dei pianatori un po' più No ma è bellissimo Aspetta No ragazzi Dei guardare Mi sono scelto questa super Bellucicosa Doro Belli questi È bellissimo Vista L'hai vista? No è troppo bella Tutta d'oro Al prossimo tempo Siamo arrivati Quindi qui finisce questo video Vi diamo appuntamento Al prossimo Intanto voi Iscrivetevi al canale Cliccate la campanella Per non perdere nessun video E ricevere le notifiche Commentate Con i fratelli Fratelli Con noi Con tentori Noi vi vogliamo tanto bene E se anche voi ci volete bene Fatecelo sapere Ecco io Ciao